In questo incontro, tutti e tre gli ordini di scuola, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, si riuniscono come alunni, come docenti, come personale ATA, come collaboratori, tutti quanti, per augurare e ben augurare ai nuovi scritti l'ingresso nel nostro istituto, nella nostra comunità scolastica. In questi tre anni abbiamo cercato di amalgamare, di dare un'identità progettuale, organizzativa, formativa, in modo che ci sia un percorso unitario che vada dall'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, alla fine della scuola media. Grazie Grazie